Benvenuti in questo nuovo video Roblox, quest'oggi bellissima mappa, abbiamo un carrellino, dobbiamo diventare sempre più veloci e far tipo degli scivoloni barra montagne russe incredibili tutto il tempo Ovviamente l'obiettivo è diventare sempre più veloci, poi andare nelle parti sempre migliori e ottenere più win, diventare ancora più veloci come a pet park, le solite cose ma con un kart ed uno scivolo strabello Sei pronta? Sì, prontissima, ma come di già? Non abbiamo cliccato, però aspetta qui c'è la ricompensa, reclama, no, come gioco uniscite, non mi voglio unire i gruppi, vabbè parto Uh figo, allora vedi, io adoro il fatto che in queste mappe ogni tanto c'è qualcuno che si inventa qualcosa di nuovo, ti compare un cartaschermo, se lo premi ti dà un bonus su velocità Carino, ma è anche bellina come costruita, cioè perché di solito sono solo delle piattaforme in cui tu vai dritto e sono un po' trissi molto spesso Invece questa guarda è carina come fa Allora qui avremo letteralmente scivoli e cose varie, il problema ovviamente ragazzi è che non avendo cliccato all'inizio perché stavamo facendo l'intro Certo Siamo troppo lenti e quindi la prima parte è poco entusiasmante, però adesso ce la facciamo le prime win e poi recuperiamo Sium un'altra speed, ok, e ci becchiamo, ecco la prima scivolata verso il basso, siumate Non un granchè, lo so Un po' triste, oh io ogni tanto non li vedo sti carrelli, mamma mia Sculpa io subito Credo che non riusciamo a prendere la prossima, allora io posso tornare indietro Ah carino, questo è quello equipaggiato, questo con mille win, mi piace molto Io vorrei scendere però, non posso, no Penso che dobbiamo finire la corsa Steph, come sempre Perché il prossimo ci dà più 6 win, però sono troppo lento, non ce la farò mai No, niente io, non avendo cliccato all'inizio, questa è una corsa un po' triste Però mi piace che tu in università ce l'ha 17 e 23 Allora, la prossima gara inizia tra 25 secondi, 4 win, che sfiga Eh, l'avevo già visto Questo ci dà una missione, cosa sei? Ah no, ok, tipo chiede dei codici, delle cose E allora stiamo fermi, ma sei sicura che c'è da premere? Sì, sì, l'ho visto mentre stavi facendo l'intro, c'era praticamente la freccia gigante Eh, non l'abbiamo provata Non l'abbiamo provata Sono quasi sicura Sì, sicura Non ho visto una freccia gigante nello schermo Però scusami Sì, 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 ora Vai Ecco, vedi? Vedi Avevo ragione che compare la freccia gigante nello schermo Eh, allora, raga, va molto meglio Vediamo chi clicca di più tra me, Fede No, Steph, con questo microfono non puoi cliccare così che scassi Vai, Fede, facciamo un concerto, su che tanto sono solo 20 secondi Ma puoi cliccare almeno un po' più delicatamente, per favore No, per favore E poi non ci sentiamo più noi Non importa Ho vinto io Ho vinto io Ho vinto io 179, 169 Sium Aspetta, ma Siamo uguali a più È identica Sì, raga Com'è possibile? Scusami, top speed Prima eravamo 0 Praticamente che non abbiamo cliccato Vabbè Un brutto presentimento Anch'io, molto brutto Però possiamo comprare il pet adesso Sì Che magari ci darà un po' di velocità in più o qualche altro tipo di statistica Ma se questo è il cambiamento di quanta velocità in più otteniamo Stiamo freschi proprio Ma basta, quello sai Ma che t'aspetti ogni volta? Che t'aspetti? Mi aspetto che le mappe non pretendano che non sciocchiamo No, perché vogliono che stai dentro a giocare È giusto Eh, ma io mi triggerò Allora Prendiamo ste due win La vera domanda è Resetto O non resetto Il dubbio amletico E mi becco le 6 win Perché se mi becco le 6 win, raga Mi scioppo direttamente due pet Però ci arrivo Secondo me ci arriviamo Perché eravamo abbastanza vicini senza aver cliccato e avendo iniziato molto tardi Ok Quindi è probabile che se poi prendiamo tutti i boost ci riusciamo Credo Allora, concentrata sui boost Ferre, tra gli altri Eh, lo so, lo so Sto tagliandando Il pezzo della salita ovviamente è il pezzo peggiore Però lo stiamo per superare E con questo boost Ok Mmm, no, è più lontano di quanto mi aspettassi Come non ce la facciamo? Non lo so, però ormai dobbiamo provarci Ormai siamo lì, vediamo Allora, però se guardi al basso Teoricamente abbiamo fatto più strada Sì Di quella che manca Però visivamente Dai, dai Io credo di arrivare Uh, non so perché è accelerato all'improvviso Ferre Sì, anche a me, anche a me Oh, ma quindi si va più veloce in certi pezzi Eh, può essere Eh, può essere Ok Eh, a zero personaggio Ma mi a zero le win e impazzisco Ok, vai Eh, faccio anch'io così, ma Compra Fortunato, 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 fortunato Ok, mi ha dato un cut Mi ha detto unico Ma in realtà il 35% dei possibilità Hai un cane, mi ha detto Due gatti Eh, ne prendo un altro Vediamo Manca solo uno dei miei tre gatti Allora Hai un coniglio Ma perché sono al contrario i pet quando li trovi? Non lo so Cioè, un po' triste Perché dovrebbero essere girati Per il coniglio quanto dava, scusami Allora, ti dico subito 166 Rispetto a 133 E il cane invece 100 Quindi comunque ne ho trovato uno più forte e uno più debole Ok, sei pronta a fare di nuovo un concerto? Sì Ma io sono velocissima, mi vedi? Sì, anch'io sono veloce Infatti la mia speranza è che adesso si pedala Ragazzi, passate il volume Mi dispiace Su, 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 su E per il bene della mappa Doviamo Clicate anche voi fortissimi E spaccate le orecchie ai vostri amici Fan premere Voi potete premere in questo modo Per andare nel nostro shop Tipo oxshop.com Dove trovate i nuovi reversible Dedicati alla vita in città Che trovate anche in tutte le edicole C'è il mio con l'armatura della vita in città C'è quello di fare con l'armatura Che è pure felice e triste C'è quello di Kendall C'è quello di Marce Marche C'è quello con Nino Gamer e Leo E sono veramente stupendi Allora, 25 secondi Io ci dovrei arrivare E quindi penso anche tu Vediamo Allora, con questo boost Sì, li vedo, li vedo, li vedo Sono qui Sono dietro l'angolo Manca poco Uh Io li prendo Vediamo? Non lo so eh Ce la fai, ce la fai, ce la fai Non lo so Ce la fai Ok, forse giustissima Aspetta, 7, 6 Perera ha preso a 5 secondi 5 secondi ragazzi 5 secondi dalla fine Incredibile Però rosico Però abbiamo 46 win Eh ma rosico Perché ecco, 4 in più Prendevamo 2 petto da 25 Aiuto, sono troppo veloce Dai Un bull Un bull È il più comune di tutti È il più comune di tutti Io ho trovato il beer Il cervo Però è verde 468 Il mio 433 Ok Ok, dai Va bene Bello L'ho trovato uno bello Non richiede neanche lo shopping A questa mappa per ora Per ora Allora Pronta? Vai Ma io spero che ci dia però un boost anche nei click Perché altrimenti Eccoli Ora ho io il boost click Vedi che ci da più 4 Sì, sì, anch'io, anch'io Anche io Perè vuol dire che andiamo a più di mille di velocità Vuol dire che a sto giro bucchiamo la mappa eh Clicca tutto Siamo dei deficienti Forza Aiuto Comunque sono troppo addictivo queste mappe Cioè tu ci giochi e sei sempre lì che vuoi fare, fare, fare e continuare Allora Quindi capisco anche perché a voi piacciono Steph siamo dei cannoni Hai visto? Sì Ok, boom, primo boost Sì, vabbè Sono già le 6 win Anch'io Anch'io Ragazzi è incredibile Concentrati Steph, prendermi tutti i boost Appena arrivano Pum Ok 25 secondi Bello Guarda come si fa su e giù Bellina questa parte Ok, altro boost io sono concentratissima per prenderli tutti perché di tanto mi spusano 17 secondi Ok Concentrati Vediamo Concentrati appena compare Appena... Pum Eccolo, eccolo, eccolo Ragazzi siamo a metà 36 No, no Non ce la facciamo Di poco Che immaginavo Perché poi ovviamente i traguardi sono sempre più distanti Sì, faremo Abbiamo Novantuin Kerosic No, costava 175 Eh, vedi Tutto a posto Esatto, stavo per dirti Guarda che forse era 170 Però non volevo vedere una Oh, raga però... Raro! Eh, vai al diavolo Io ne compro un altro però Dai Ne compro due 3 su 3 su comuni Ok, io ho trovato un altro verde È il raro Quindi ottimo Dimmi quanto dà il raro 516 Eh, mi devo triggerare io Ecco fatto Ora sono potentissima Sei pronto a cliccare? Sei pronto a spaccare i timpani? Più 6 Perché più 3? Perché non li hai equipaggiati, forse A me sta dando più 6 Quindi volo, Steph Volo Mi hanno scamato Sai cosa manca in questa mappa? Vai Non hanno messo il revert Sì Hai ragione, non c'è Non hanno messo il revert È l'unico peccato Non c'è? Sicuro? Non c'è Non c'è Vabbè, perché comunque effettivamente Vè abbastanza veloce Rispetto agli altri tipi di mappe Eh, però tipo adesso Un bel revertino Lo facciamo volentieri Allora, pronti? Perché più 11? Ho più 11 anche io Ma perché ragazzi? Ha dei petto più scherzi dei miei Allora che mi serve trovare i petto forti? Perché parti da una base migliore Però se Steph premia più di te Ha sto girati su però 3.016 Sono più veloce di ferra raga Che triste Mi sono dimenticata di premia il boost però mannaggia Io l'ho preso invece con i pari Allora Comunque è divertente questa Mi piace Molto È tra le più divertenti sicuro che abbiamo giocato Allora, ok, bam Ma davvero quanto sono veloce Che figo Ok, adesso di sicuro Comunque a priori da come andrà Compreremo il petto del 65 Assolutamente sì Cioè è matematico, ok Però voglio vedere se riusciamo a fare il 50 Io non penso sinceramente Neanche secondo me Praticamente è completato il 36 E andiamo secondo me con 45 secondi a fare il 50 E io non penso Ma mi rimane il dubbio personalmente Vediamo Davvero Cioè la speranza c'è, no? Certo Che comunque 40 secondi Sono tanti i 40 secondi Con più tutti i boost Che se li prendiamo Comunque Ti danno una bella mano Vediamo Che traguardo Oddio Di poco però Niente Veramente di poco Guarda la mappa Mancava pochissimo Niente Però possiamo comprare il pet Oh Adesso Pretendo quello da 14% di chance Eccolo Basta pretendere nella vita Comune 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 Allora Non è vero Non serve niente pretendere 433 lo togliamo 1360 Porca miseria Velocità totale Di base 2780 1100 il mio Scoperti che adesso abbiamo un click minore di 11 Sì Ho questo presentimento 7 9 Perché? Non lo so Ragazzi me lo spiegate? Cioè se qualcuno sa Me lo può spiegare È randomico Io ragazzi penso che di nuovo Non facciamo il 50 No, neanche secondo me Però prima Siamo partiti sul 50 con 40 secondi di tempo Sì Io sì perlomeno Tu forzi un po' di più Eh no Guarda che questo giro partiamo con 53 secondi Siamo molto più veci di prima Eh ma io non vedevo neanche il traguardo Stef Non lo so tu Guarda che mancava il 10% della zona Io guardo dal basso Eh però non vedevo il traguardo Quindi boh Fidati mancava tipo Ce la facciamo Vediamo E tra l'altro sono fondamentali Perché altrimenti non compriamo il pet Quindi dobbiamo farcela Eh lo so Io ci provo 100% 100% Queste 50.000 arrivano Ok Sì Pfff Easy anche tu Easy anche tu Beh È fatta è fatta Allora Prendiamoci questo ultimo boost E di sicuro arriviamo con questo A sto bellissimo più 50 Che Compare di fronte a noi Adesso Ok 7 secondi Uff 6 secondi Mamma Ero zitto Perché ragazzi mi è venuto Ma dove si faccio il gioco adesso che figo Sì 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 Ovviamente qua non riusciamo a farlo Ovviamente Però ero quasi convinto di non riuscire a prenderlo Quindi ero zittissima Allora 175 Unico E il fire dragon Che credo sia Unico Uguale a quello che ho trovato prima Quindi purtroppo di nuovo non trovo il raro Però è comunque molto forte Quindi dai Quanto hai di base? Io 359 Non hai equipaggiato i pet Fere Sì che ce li ho No Fere manca quello Fere Premi lì Non hanno lo spunta vu Premi Ok Allora fa un click Non me lo stavo premendo No 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 ti ho guardato Io adesso ho più 5 Ragazzi Non capisco Comunque ho 3008 come te Vabbè basta Ci fermiamo Va bene Ciao